Noi siamo ovviamente come Italia, abbiamo fatto tutto il possibile, siamo anche, come dire, umanamente coinvolti. Adesso quello che potevamo fare abbiamo fatto tutto, mettendo anche a disposizione le nostre strutture. Molto spesso gli inglesi sono portati a questo tipo di decisioni che io non condivido. Ma per norme troppo rigide? Perché loro hanno un sistema che è il Servizio Sanitario Nazionale, in cui hanno determinate norme, determinati regolamenti da cui non si distaccano mai. Ci sono tanti modi più umani di gestire questa situazione. Il modo con cui molto spesso i colleghi inglesi gestiscono queste situazioni sono scioccanti e anche un po' disumani.